buonasera ho telefonato al dottor Freud mi ha risposto e io ho chiesto Sigmund nei manicomi capitano queste paranoie visioni mistiche mi ha detto Sigmund Sigmund è brutto anche se Sigmund ma la testa è stata bella Sigmund cosa ne pensi di questo affiorare dell'antisemitismo oggi nel 2024 ha risposto l'antisemitismo c'è sempre stato quando ero vivo io quando mi ricordo sempre Sigmund ha detto quando ero bambino io stavamo passeggiando per Vienna e un antisemita prese a ceffoni mio padre sul cappello gli buttò il cappello per terra gli disse ovviamente gli insulti di antisemiti e mio padre raccorse il cappello ma era una cosa normale nell'ottocento l'antisemitismo poi ovviamente il nazismo di così naturalmente si sperava dopo la seconda guerra mondiale che la cosa fosse un po' finita nel senso che ovviamente 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 insomma si fosse un po' bozzata la cosa e disse no dice Freud la cosa non si può bozzare così semplicemente per un motivo molto semplice più che tutto ci sono due tipi di antisemitismo uno cristiano chiunque abbia avuto un'educazione cristiana l'archetipo del male della malvagità umana chi è? pensateci un attimo l'inferno di Dante nel Lucifero è un'essere entità soprannaturale ma nella bocca centrale di Lucifero chi c'è dentro? c'è Giuda Giuda iscariota figlio di Simone che ha tradito Gesù quindi diciamo che il posto d'onore dell'inferno spetta un ebreo e se guardiamo le raffigurazioni in tutti i cenacoli la figura di Giuda è certamente quella caricaturalmente più mostruosa grottesca pensiamo sull'ultima scena è quella che nella tradizione occidentale è certamente quella che ha i caratteri tipici che della fantasia umana è certamente quella dell'ebreo vediamo Giuda nell'ultima scena di Leonardo che tiene stringe il sacco di denari con il naso adunco sembra una caricatura nazista e c'è in fondo un po' di nazismo in Leonardo da Vinci c'è un po' di Dottor Mengele Leonardo da Vinci che sezionava i cadaveri questo c'è qualcosa questa è un'altra storia ma tutto questo è ovvio che anche gli altri apostoli erano ebrei sì ma su quello su Giuda si insiste molto tra Giuda Giudeo è ovvio che purtroppo se almeno si fosse chiamato un altro nome ma Giuda è Giudeo è ovvio che Giuda diventò per molti secoli sinonimo di Giudeo quindi traditore popolo e decida traditore prima decida traditore e poi decida quindi a livello inconsciuto questo permane dice ma questo riguarda solo i cristiani sì ma l'inconscio non fa molta differenza tra cristiano e ateo nel senso le immagini collettive che si deposiano nell'inconscio è ovvio prendiamo un esempio i cinesi hanno sterminato il genocidio dei tibetani e c'è stato nessuno non ce n'è fregato nulla ma perché non ce n'è fregato nulla perché i tibetani nel nostro inconscio non ci dicono nulla il tibetano in se stesso non ci dice niente il tibetano può sparire dalla faccia ma non perché siamo cattivi ma perché nell'inconscio occidentale e per occidentale intendo anche gli arabi gli arabi sono un popolo occidentale rispetto a cinesi la grande distinzione non è tra l'oriente inizia con l'india con l'induismo ai quali giustamente non gliene frega nulla né di juda né di scariot eccetera eccetera perché lì inizia un altro mondo anche di pensiero questo mi stava dicendo il dottor Foglio quindi è ovvio che queste immagini del giudeo è ovvio il denaro giudeo denaro e insomma e quindi naturalmente dimenticando i comunisti che il comunismo e questo l'ha diventato un ebreo insomma Carlo Mars che ovviamente ha anche l'assonanza un graucio Mars ma questa è un'altra storia tutto questo però ovviamente c'è un antisemitismo che è ancora c'è l'antisemitismo da una parte certamente associata al cristianesimo ma come dimostra il libro di Apione che è stato scritto al primo secolo d.C. quando il cristianesimo era proprio agli origini quindi non c'era un antisemitismo cristiano perché gli imperatori perseguitavano anche i cristiani e alcune accuse che Flavio Giuseppe porta agli ebrei era un antisemitismo soprattutto da parte degli egiziani gli egiziani ritenevano che gli ebrei fossero degli egiziani infetti e malati che furono cacciati dal Egitto sotto un sacerdote di Osiride che li avrebbe condotti a Gerusalemme naturalmente Manetone riporta varie ipotesi nel senso che in realtà Manetone confonde la strage da l'invasione degli Ixos quando una popolazione straniera semita si impadonisce dell'Egitto e nasce una dominazione straniera di popoli del mare eccetera eccetera con probabilmente questa storia degli elebrosi che vengono cacciati dall'Egitto già ha detto Freud e lui ritiene che sia in realtà in riferimento al falone eclanatum cioè che si erano stati cacciati dall'Egitto perché una delle prime forme di monoteismo nacque anche in Egitto con eclanatum che adorava solo il disco solare Aton che non aveva rappresentazione se non il disco solare quindi eclanatum porta già a una religione che rifiuta le immagini che ha un monoteismo perché a tutti gli effetti è un monoteismo e quindi Sigmund mi diceva lui vedeva in questo inclinato in questa storia dei egiziani ebrosi cacciati dall'Egitto una sorta di una sorta di prefigurazione del popolo ebraico naturalmente ovviamente però il libro di Flavio Giuseppe si dimostra che esiste un antisemitismo più antico di quello cristiano e che in un certo senso sta riemergendo fuori oggi nel senso oggi gli antisemiti le più straggiosi forme di antisemitismo vengono fuori da gente che è tendenzialmente anche di sinistra insomma che naturalmente non accettano di essere chiamati antisemiti però ogni tanto gli scappa qualcosa in cui insomma gli scappa qualcosa in cui la distinzione tra israeliano e ebreo gli risulta difficile ora non citeremo gli ultimi casi di Pisa e Torino che rimandano purtroppo è ovvio che non è la stessa cosa però il richiamo le università che insomma durante il fascismo buttavano fuori i professori ebrei insomma non è che l'università di Gerusalemme se ne fanno ne qua e ne là nel senso che l'università di Gerusalemme a livello tecnologico è 10.000 anni luce avanti a Pisa e Torino quindi se Pisa e Torino non collaborano con Gerusalemme credo che ci perdano Pisa e Torino ma non per tutto rispetto per i professori italiani che Leonardo da Vinci Michelangelo Pasqualino Sette bellezze tutta la l'amore la genia il genere di popoli navigatori eccetera eccetera però faccio notare un'altra cosa l'antisemitismo se ci fate caso chiudo è più in questo momento tra i paesi meno antisemiti in fondo c'è la Germania e l'Italia di più perché diceva Signum telefonandomi da lui sta unire parte cioè la parte psicoanalitica dell'Oltretomba ha messo sotto analisi Socrate insomma c'era un sacco di roba da fare insomma c'era un sacco di gente Napoleone ha detto Napoleone non ci cavo le gambe voleva mettere sotto analisi anche Hitler ma ha detto ma non è cosa gli mordeva la mano di tanto gli dava due tre morsi la mano e questo non sa ma Stalin ha detto non c'è non c'è in trippa per gatti perché Stalin è una sorta di blocco di marmo cioè anche lievemente disumano anche lui quindi ma lasciamo perdere mi ha detto c'è questa cosa noi tutti abbiamo una parte conscia inconscia di solito questa parte conscia inconscia lavora allo stesso tempo anche di giorno anche in questo momento c'è la parte conscia che sta facendo questo video ma la parte inconscia è sotto traccia nel senso a volte io nel giorno alcune immagini suoni mi possono ricordare alcune cose che ovviamente io a livello conscio non ricordo ma tutto questo per dirmi che quando c'è un trauma nel senso quando io faccio del male a qualcuno posso e ovviamente traumatizza anche chi fa il male diciamo che ci sono due sistemi di espiazione del male oppure di superamento del trauma uno quando fatti tedeschi che in fondo hanno riconosciuto abbondantemente le loro colpe rispetto al popolo ebraico e un altro è stato quello degli italiani che non è stata un vero riconoscimento delle colpe che abbiamo avuto le leggi razziali insomma siamo sempre cavati come diceva Sigum Floyd italiani brava gente che in parte è vero ma non abbiamo mai fatto i conti con le leggi razziali il suicidio di formigini del sequestro dei beni degli ebrei che erano in Italia e tutto questo è stato un po' e allora quando si ha un senso di colpa ci sono due modi o il senso di colpa viene portato alla luce tramite analisi o si trasforma la vittima in carnificio nel senso che la vittima che io ho ovviamente ovviamente a cui ho fatto del male io trovo delle ragioni in questo caso la guerra di gas è solo una motivazione per inconscio per cui l'antisemitita l'antisemitita l'antisemita oggi in un certo senso si autoassolve e per il passato nel senso che lui vede nella vittima ebrea un carnefice e quindi si sente a questo punto autoassolto per questo alcuni popoli cioè perché ovviamente l'antisemitismo in Italia affonda tutte queste questa sorta di il primo nome è che in Germania perché in Germania in fondo il trauma è stato in un certo senso è stato un trauma molto forte ma è stato portato alla luce noi non l'abbiamo portato alla luce e continuiamo a cercare motivazioni irrazionali per il nostro odio verso una popolazione di ebrei quest'odio irrazionale quest'odio irrazionale è ovvio che viene noi gli antisemiti oggi si autoassolve con gas si autoassolve naturalmente escono poi fuori delle paroline che a livello inconscio testimoniano che più la preoccupazione per i civili ci sia una preoccupazione per l'autoassolvimento delle colpe di noi e dei nostri odio noi ci autoassolviamo così autoassolviamo dicendo che in fondo quelle sono persone che sono sempre state cattive dal giro da Iscariota oggi e quindi siamo a posto questo è quello che mi ha detto il dottor Freud e quindi ci ho parlato ora ora una riflessione storica e già Giuseppe Ebreo Giuseppe Flami Giuseppe Ebreo sarebbe quello dei sogni ci testimonia che il fatto che ci siano persone cioè noi odiamo le persone più vicine a noi insomma dei cinesi che non ce ne frega nulla i giapponesi hanno compiuto crimini orrendi in Corea non ce ne è mai fregato più di tanto diciamo io lo so perché ho avuto diciamo dei rapporti con Coreani e Giapponesi ragazzi insomma ho scoperto quindi però nel senso che è ovvio che alcuni ci si potrebbe chiedere perché certe cose certe cose a livello inconscio fanno emergere alcuni demoni che abbiamo detto io l'antisemitismo è un demone antico e in questa storia della striscia di Gaza permette a un antisemitismo inconscio di uscire fuori tranquillamente senza grossi problemi naturalmente coprendoselo con ragioni umanitarie naturalmente ci si potrebbe chiedere perché queste ragioni umanitarie saltano fuori solo qui e non saltano fuori in diecimila altre guerre che stanno succedendo a giro per il mondo voi direte ma questa è una domanda retorica sarà una domanda retorica però la risposta qual è? perché quella popolazione lì che noi chiamiamo israeliani o ebrei a livello inconscio suscita in noi motivazioni irrazionali suscita in noi il dottor Jack il mister I che è in noi che è certamente di molti di noi antisemita però siccome è una sensazione di cui ci vergogniamo perché a livello conscio ci vergogniamo di essere antisemiti è ovvio che se mi trovo una sorta di paramento di maschera psicanalitica cioè che io sono un uomo buono che si batte per i diritti dei uoi degli esseri umani indifesi anche perché come ho detto in certi video su quando c'è stato l'assassinio dello studio di quei ragazzi israeliani tanta pace un'indignazione ci sarebbe dovuto essere invece non c'è stato niente allora perché questa indignazione a livello inconscio salta fuori solo in certe cose si ha un po' l'idea che la nostra parte razionale sia solo una mera maschera e che la parte irrazionale sia quella che domini in gran parte della società cioè noi crediamo di agire liberamente eccetera ma sia Gurdjieff che Freud e Jung ci hanno sempre detto guardate voi siete dei burattini le vostre motivazioni irrazionali sono diecimila volte più forti che quelle razionali quando si ferma si siede un attimo dice va bene perché non me ne è mai fregata una cippa del genocidio dei tibetani della cancellazione dell'aerocultura perché ovviamente l'immigrazione massa dei cinesi porterà nel senso che non me ne è che ci siamo ovviamente a parte qualcuno sì ma perché quella tragedia lì ci ha colpito meno e questa ci colpisce di più per questioni di distanza sopra i cento chilometri tutto è lontano questo poi ci porterebbe alla Russia Putin ho sentito delle cose interessanti che Putin è il governo come Erode citiamo che poi Erode non era propriamente ebreo ma era la madre era no la madre credo fosse ebraica ma il padre era di una diastia di Nabate insomma di una popolazione araba della zona Erode non è che era il potere era il potere perché un tiranno ha ammazzato tutti i suoi rivali questo fa Putin cioè Navarney non è morto possiamo credere che Navarney sia morto di morte naturale possiamo credere che io ho sentito Di Freddi che ha paragonato Putin a Dostoevsky a questo punto alzo le mani e vuoi dire bucchia lo so non buso non lo so come si può cioè bucchia ma come dice no ma perché lo spirito slavo ma cosa lo spirito slavo Dostoevsky ha scritto i fratelli Karamazov che è un inno al cristianesimo all un inno un inno a Gesù crocifisso e tu me lo associ ma come fai ma come come hai fatto cioè per il modo Dostoevsky non lo so al limite forse il tuo storico è pace vai è stato anche militare ma io veramente però è sempre quello è sempre interessante mettere sotto alcune persone si scoprirebbero perché poi la presunta razionalità di alcune tesi per quanto di più razionale esista perché io credo che nessuno sanno di mente voglio dire possa neanche paragonare Putin a Netanyahu perché Netanyahu sarà fra poco probabilmente non sarà rieletto Putin sarà rieletto fino alla morte quindi c'è una discasia tra le due cose uno è un dittatore l'altro può essere un politico incapace eccetera ma che dopo libere elezioni sarà fatto fuori dal suo elettorato dall'altro israeliano però a volte il nostro inconscio ci accetta quindi io molte persone non ci parlo perché se io dico a quelle persone che Putin è un dittatore mi guardano si dice se una cosa oppure Stalin è stato per 50 anni dittatore oggi siamo tutti d'accordo però quando Stalin diceva qualche comunista era un dittatore ti guardavo così no Stani come Stani come Stani ha mandato la gente in Siberia ha mandato i carri armati in Ungheria come lo vuoi chiamare così principe della pace e della democrazia no neanche ho detto comunque detto questo ma questa è la mia mera riflessione su una psicopatologia dell'antisemitismo prendete a noi e ovviamente so che questo video avrà dei commenti piuttosto feroci oppure naturalmente mi diranno no ma sei inventato tutto ma è ovvio che la nostra parte inconscia cioè io non pretendo neanche di convincere alcune persone perché so che la loro parte inconscia è talmente forte cioè noi vediamo solo quello che vogliamo vedere cioè veramente noi vediamo solo quello che la nostra ideologia ci fa vedere mi ricordo una volta Cecilia Gatto Troc che era in Unione Sorietico con i suoi amici comunisti e c'era la gente che faceva la fila per il pane e Cecilia Gatto Troc mi diceva ma questa è una fatica per il pane no no ma te lo stai sognando sono probabilmente oggi un'eccezione un giorno dopo ma stanno a rifare la fila per il pane un'altra volta sì vabbè ma sarà la settimana ma guardi questo lo fanno tutti i giorni cioè tutti i giorni manca il pane però veramente l'ideologia a volte il nostro subconscio le nostre ragioni dipendono anche da motivazioni anche inconsce cioè io da bambino ripeto facevo il cricetto e si in processione si cantava Giuda infame cioè questo Giuda che cosa era fatto di tanto perché vuoi dire vabbè che ne sape magari uno sapeva che era il figlio di Dio nel senso che poi vabbè questo però sarebbe invece Clon queste mie poche riflessioni non volevo fare un video molto più lungo su Apione sulla stirpe degli Asmonei Maccabee quello però richiede se non so il Giudiziano di Giussaremmi vuole collaborare con lo Cuseppe visto che tutti si dissociano non credo che il Giudiziano di Giussaremmi ha qualche interesse a occuparsi però naturalmente perché sono lavori lunghi è un discorso un po' lungo partire dalla stirpe di Davide la stirpe dei Maccabee gli Asmonei la caduta del regno di Erode l'occupazione romana nel 69 Spasiano e Tito la distruzione del Tempo cioè capitano molte cose tra il 6 avanti Cristo e il 70 dopo Cristo naturalmente poi naturalmente arriva quello di sinistra e mi dice Gesù era palestinese allora io a quel punto mi arrendo è come dire che Giulio Cesare era di Fosinone capite non ci mettono neanche a discutere se uno mi dice che Gesù era palestinese io mi arrendo e basta è come chi mi dice Putin vede delle assonanze tra Putin e Dostoyevsky in che senso però naturalmente uno ce le può vedere Dostoyevsky fu portato in Siberia gli fu messo davanti a un muro e fu uccidato per scherzo ora mi spiegate qual è l'assonanza voi ci vedete tra lui e Putin non me lo spiegate come fate ma cioè va bene che si può fare il paragone tra tutto anche tra un carciofo e un angelo del paradiso però voglio dire c'è una fantasia per trovare delle analogie tra un carciofo e un cherubino cioè nel senso sì ci saranno delle analogie ma tipo le foglie del carciofo assomigliano vagamente alle ali di un angelo insomma tanta grazia a Sant'Antonio chiudo qui questo video sarà ovviamente divisivo e io a volte sono divisivo perché queste ore ho fatto anche 21 minuti insomma poi quello che volevo fare nel senso se mi finanziano l'università di Giuselem faccio un video più lungo ma anche perché i video chiudo i video di filologia greca e latina richiedono più tempo dove prendo appunti eccetera eccetera parlo di più metto ovviamente si fa 80 kg che se ne frega adesso oggi parlo di uolo perché naturalmente anche nei fumetti ci sono i manichèi però i manichèi i manichèi sono sempre la sua virale da tutte le parti Contrapione un libro che vi consiglio perché vi fa capire che molto antica molto vecchia molto le virtù di Sparta tra l'altro gli ebrei venivano paragonati agli spartani di Apoli che no vabbè chiudo passo e chiudo e vi lascio con i vostri comunque io ho parlato con Sigvon Freud perché la mia schizofrenia a volte c'ho due visioni mistiche a chi appare la Madonna mi è apparso Sigvon Freud perché non mi poteva apparire Sigvon Freud scusate no ho apparso lì con la barba e ho detto vedete che la folla vedete che la folla io sono un folle consapevole il folle consapevole ha questa vantaggio come il folle dei villaggi ebraici sui tetti è che io sono consapevole il problema è il folle che crede di essere sano di mente è quello il problema secondo me il mondo è pieno di folli che si credono perfettamente razionali e molti di questi sono anche anche se con questo passo grazie a tutti